Semplifichiamo la gestione di un ascensore, rendendolo smart e più sicuro In Avire conosciamo le sfide nel lavorare con un numero elevato di impianti differenti e le difficoltà nella manutenzione di ascensori datati Molteplici procolli rendono ancor più difficoltoso accedere al monitoraggio Il DCP di Avire è progettato per risolvere queste problematiche Il CAN bus di Avire è la soluzione che connette periferiche compatibili verso il cloud utilizzando un solido canale di comunicazione Visualizzare le informazioni sullo stato del tuo ascensore attraverso l'Avire Hub Non è necessario il collegamento al quadro di manovra Liftock permette di monitorare da remoto il tuo ascensore Avviare test sequenziali da remoto senza la necessità di doversi collegare al quadro di manovra Sensori integrati avviano test in modo autonomo ed imparano a riconoscere situazioni anomali di utilizzo Salva tempo e denaro evitando le visite sul sito causate dei falsi alarmi Aggiornamenti via messaggio di e-mail in tempo reale Monitoraggio delle barriere di sicurezza Tecnologia 3D brevettate con l'integrazione di indicatori luminosi rossi o verdi nelle barriere di sicurezza Monitoraggio del numero di cicli di apertura-chiusura per la manutenzione predittiva Avvisa se la funzionalità della barriera è compromessa e riduce il flusso di traffico Avvisa se le porte sono bloccate Montaggio su entrambi i lati della pulsantiera e collegamento con un singolo cavo Permette di installare un nuovo display LCD a colori in una pulsantiera esistente Collegamento verso la navigation box per ricevere informazioni di direzione piano senza doversi collegare al quadro di manovra Programmare la grafica dei display da remoto grazie da Avire Hub Utilizzando facili strumenti drag e drop Controlla gli orari di intervento dei tecnici sul sito con Connex Registra il tempo impiegato sul sito Resetta in modo sicuro e da remoto il quadro di manovra con Connex Prodotti pronti per il futuro grazie ad aggiornamenti da remoto dei firmware Programma e controlla da remote telefoni di emergenza Controlla costantemente il rispetto della N8128 Programma e i telefoni di emergenza ed aggiorni il firmware Gestisci un protafoglio di differenti impianti in modo facile, semplifichiamo la gestione di un ascensore, rendendolo smart e più sicuro Grazie a tutti